Una panchina per riflettere, ma non solo. Una panchina rosa dedicata a tutte le donne che hanno combattuto, che combattono e che combatteranno contro il cancro. Una panchina rosa dove sedersi per riposare e magari leggere un buon libro. E' quella che hanno installato le socie del comitato Vibo in Rosa al parco urbano di Moderata Durante di Vibo Valencia, insieme a una piccola biblioteca free dove chiunque può prendere un libro e leggerlo. E soprattutto chiunque può trovare notizie o puscoli su questa malattia che colpisce moltissime donne. Questa non è la prima iniziativa che Vibo in Rosa organizza a Vibo Valencia. E' comunque un messaggio importante che vuole lanciare alla popolazione. Questa non è infatti il primo evento che organizza Vibo in Rosa. Abbiamo avuto il primo evento in piazza l'anno scorso, abbiamo avuto la cena di beneficenza per raccogliere i fondi per l'oncologia di tropea a noi tanto cara. E questa invece è la prima panchina che vogliamo inaugurare sul territorio vibonese. Un messaggio importante anche perché la panchina rappresenta tutte le donne che combattono la loro battaglia contro il tumore al seno. Per noi è una cosa importantissima, vuol dire facciamo prevenzione. La prevenzione aiuta, la prevenzione è l'arma più importante e più fondamentale per combattere il tumore al seno. E questo è il simbolo che noi vogliamo mettere a disposizione della comunità. Facciamo prevenzione. E' questo che vuole far trasmettere il messaggio di Vibo in Rosa. Una panchina e insieme alla panchina anche una piccola biblioteca con romanzi e soprattutto opuscoli su quello che significa fare prevenzione. Sì, esatto. Un angoletto dedicato a chi viene a visitare questo posto si può accomodare, prendere un libro, leggere, rilassarsi anche un attimo e soffermarsi a pensare. Anche a quello che è il male del secolo purtroppo, il cancro. Al seno e nonno. Perché purtroppo la malattia non aggredisce solo il seno. Quindi in generale. Questa panchina innanzitutto è un ricordo per una nostra sorella che purtroppo è venuta a mancare. E' il ricordo a Carmel. E per lei soprattutto abbiamo fatto questa panchina e la biblioteca. Perché lei ci teneva tanto e ci teneva anche a dire che la prevenzione è importantissima. E' la parola d'ordine contro il male che è il cancro. Quali sono poi i vostri progetti futuri dopo questa panchina e la biblioteca in Rosa? Allora al momento soltanto un'altra cena di beneficenza da organizzare in inverno, presumibilmente a dicembre. Il cui ricavato andrà sempre all'oncologia di Tropea. Voi siete anche a disposizione di chi eventualmente avesse bisogno di aiuto in una situazione anche emotivamente difficile? Sì, noi siamo un comitato di donne oncologiche. Quindi partiamo dal presupposto che noi siamo donne che ci siamo passate. Che sappiamo cosa vuol dire sopportare la malattia, essere supportate. E quindi di conseguenza siamo qui anche per questo. Siamo pronte ad aiutare chiunque avesse bisogno. Ci siamo passate e quindi di conseguenza vogliamo aiutare chi in questo momento ci è passato. Un aiuto psicologico, un supporto psicologico. Noi siamo qui, non siamo medici. Attenzione, siamo donne che purtroppo ci siamo passate e sappiamo cosa vuol dire. Siamo qui per qualsiasi donna avesse bisogno. Noi abbiamo la nostra pagina Facebook, che è Vibbo e Rosa. Abbiamo anche diversi contatti, ci possono contattare tramite Messenger, tramite il cellulare che ritrovano sulla pagina Facebook. Noi ci siamo, siamo qui. Nel nostro piccolo cerchiamo di darci supporto e di dare supporto. Quindi contattateci.